Ciao a tutti, sono Simona Renzetti, IFBB Bikini Pro. Quest'oggi sono con voi per parlare di un argomento molto interessante che può riguardare gli uomini e le donne. Ebbene sì, parliamo di estetica. Parliamo di un argomento interessante soprattutto in questo periodo, perché da uno si sa, cadono le foglie ma cadono anche i capelli. Ecco perché quest'oggi possiamo ovviare questa problematica con questo integratore qui. Parliamo di capelli, pelle e unghie. È sicuramente un integratore che all'interno ha un pool di vitamine, sali minerali, di estratti ed elementi che fa sicuramente bene a tutto il nostro corpo. Ma ha la particolarità di avere all'interno due ingredienti, due elementi che sono fondamentali e importanti per la cura dei nostri capelli. E sono la biotina e l'estratto di bambù di cui silicio. Ecco la motivazione per cui adoro questo integratore, perché sono elementi davvero difficili da poter trovare solo ed esclusivamente all'interno degli elementi. Ecco perché una sola capsula di capelli, pelle e unghie dona sicuramente una migliore elasticità e resistenza alla nostra chioma. Quindi provatelo e poi fatemi sapere. Aspetto un vostro feedback. Aspetto un vostro feedback.